Ciao a tutti! Allora, oggi Halloween Challenge, farò la mangi o lo scarti, ma ovviamente non posso farla da sola e ora farò la magia e apparirà un ospite speciale, anzi una mia amica speciale Sì! Stan! Sì, è qua! Ciao! C'è qui Vanessa, anzi sono io a casa di Vanessa in realtà Esatto E facciamo due challenge tema Halloween Esatto, come l'anno scorso ormai praticamente una tradizione Tradizione di Halloween in questo bellissimo sfondo che Vanessa ha creato qua in camera sua spero che vi piaccia allora pollice in su se vi piace lo sfondo di Halloween e in generale o se vi piacciono i video insieme le challenge insomma se vi piace vedere video dove siamo insieme tagliate pollice in su per Adriana e iscrivetevi anche al suo canale grazie grazie e anche quello di Vane ovviamente chi inizia? il canale è tuo quindi cominci tu come sei carina ciao allora primo lo mangi o lo scarti sono un po' indecisa non voglio mangiare quelle cose che abbiamo preparato non voglio assolutamente questo lo mangi o lo scarti lo mangio ok non voglio è un frecchetto è un frecchetto nooo ma cos'è wasabi? no questo è un dolcetto oreo con senape poi quella polverina lì verde che è la spirulina e peperoncino è orrendo non ho fatto neanche un punto e in più sto mangiando storaba schifosa e nelle challenge sono sempre fortunatissima devo dire adesso tra l'altro ho stra paura che tu possa vendicarti quindi qualsiasi cosa mi offrirai ti dirò no no lo scarto vedremo guarda che ti sento è una strategia è una strategia vediamo se funzionerà aspetta col cappellino da strecca ti metto il gufo ora vediamo come ti giochi le tue carte aiuto lo mangi o lo scarti non lo so tentaci bene allora secondo me lo mangio yeee è un dolcetto è un dolcetto si puoi sbendare ormai tanto dobbiamo sbendare yeee è un mini twix lo sapevo lo sapevi dovrei fare la giocatrice di poker perché sei una strega quindi uno a zero per te non si pareva tanto già sappiamo come andrà a finire questa challenge come se ne è negativa sempre le perdo adesso ti offriamo un dolcetto dai per farmi perdonare con quella faccia maledica lo sai che è al contrario no sento dei rumori mi vuoi fregare con questi rumori lo so allora lo mangi o lo scarti lo scarto nooo era un dolcetto ma scusa io ho fatto quella carina che te l'ho offerto ma tu l'hai scartato e io ci ho provato comunque hai fatto quel rumore con la cannuccia eh era voluto scusa è una sfida sono cascata va bene ok mi metto la band adesso ho stra paura lo mangi o lo scarti aiuto secondo me dovrei scartarlo ma lo mangio nooo nooo una cannuccia nooo allora potrebbe essere o la bibita tipo coca cola e sale si questa no è un'altra bene spirulina è acqua spirulina sale spirulina è tipo un'alga verde allora vado eh vai dovevo scartarla vedi il mio intuito non sbaglia mai eh hai ragione non è male ogni volta che facciamo queste challenge ti arrivano le robe più schifo la pizza challenge con marshmallow il guacamole ma non è male a me piace tutto cioè è buono comunque il punto non te lo do lo stesso tranquino neanche se lo bemo no no bello tutto no no ok un assaggino non è male di più ok sono pronta ok ok allora lo mangi o lo scarati lo mangio cos'è questo mistero? devo assaggiarlo senza sapere? si allora già ho capito che è una cosa brutta si è una cosa brutta no preparati vai io non so è il miele col sale l'alda mamma mia buono buono? no non è male come te fa non è male no sto scherzando ah stai scherzando io ti stavo credendo non vuoi assaggiare no no grazie buono quindi quindi sei mangiato due cose tutte due schifose si esatto tu almeno un twist lo sei mangiato era anche buono ti faccio ridere ti ripasso la veletta così per aria lo mangio o lo scarti? allora sento un rumore di carta secondo me è una cosa schifata lo scarto era il mandarino con la salsa barbecue sono stra felice di aver scattato questo beh ci credo brava c'è anche un po' di ketchup però ketchup e barbecue brava brava quindi tu due a uno brava perché no non devo gioire brava vabbè sono pronta mi voglio mangiare un dolcetto ho fame ma è una challenge questa poi a Trina mangerei un sacco di cose buone si lo mangi o lo scarti? lo mangio ok puoi sbendarti sarai felice no non mi piace il bambino no non lo sapevo no sono tanti anni che non lo mangio vai prendi un altro dolcetto dai posso? si tanto hai vinto il dolcetto quindi scegli il dolcetto più buono allora scelgo avete visto come sono brava? brava brava se ne attrega buona Twix fateci sapere nei commenti se siete andati a fare dolcetto scherzetto o se lo facevate da piccole o se vorreste farlo o se lo state facendo mentre state guardando questo video è fatto quindi ho vinto no 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 la challenge dicevo scusa perché hai vinto? no questa mancia Adriana si buona che io ti ho dato il dolcetto hai già mangiato due dolcetti io solo uno no uno l'ho mangiato ah sì? cosa stai prendendo? perché? perché ho un sesto senso che mi dirà che tu mi ripasserai il mandarino di prima è vero? volevo ecco lo mangio lo mangio o lo scarti? non lo so lo mangio posso aprire gli o'fi? ma uffa prendi cosa? l'ovetto sciocco sciocco bonze nuovo l'ho messo al contrario non posso perdere questa mancia non posso allora lo mangio o lo scarti? lo scarto lo mangio o lo scarti? attenta a ciò che scegli io ho l'ansia del mandarino quindi lo scarto no tutti i miei ma dai era un dolcetto sì triste quindi ora ultima ho la mia chance per vincere per la prima volta una challenge esatto quindi adesso potresti o vincere o perdere vado ma l'ho messo di nuovo? basta no per la finale devo metterlo con gli occhi giusti vai mettilo dritto ok ok l'ansia lo mangi o lo scarti? secondo me tu sei un po' subdola che vuoi farmi credere di avermi dato una cosa schifosa invece io sono coraggiosa io sono coraggiosa sarò coraggiosa lo mangio guarda quanto sono subdola nooo siiii prendi un dolcetto che hai vinto ho vinto ho vinto una challenge per la prima volta no è la prima volta beh mi sa di si di solito non sono così fortunata in realtà io avevo preso i dolcetti perché volevo fare anche indovina il dolcetto challenge quindi se vi piace l'idea di questa challenge commentate mettete un bel pollice in su così faremo altre challenge magari proprio questa ora andiamo sul canale di Vanessa cliccate sulla sua faccia e andiamo a vedere l'altra challenge ciao ciao ciao